buon pomeriggio a tutti ragazzi e bentornati qui con me su kbtv aspettate che se avete sentito casino è il microfono che l'ho messo a posto eccoci qua con le nuove sfide di dragon ball z budokai hd collection cosa mettiamo su un abito generico siamo qui con goku super saiyan 4 contro il più forte di tutti che ovviamente le piglierò ma insomma ci proviamo no i sell junior no questi sono forti vabbè proviamo come al solito vi ringrazio per tutti gli iscritti per i video oh qualcuno ha fatto irruzione questa è nuova ragazzi questa è nuova vediamo chi ha fatto irruzione mai oh no 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 questa è cattiveria gratuita mi devo trasformare sempre perchè devo arrivare al quarto livello di super saiyan che non è facile questa già ecco questa potrebbe però venirmi incontro nel senso che lui non può fare via caricati dai 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 super saiyan 3 uuuh 4 via perfetto mitico vai che l'ha sprecata di nuovo ragazzi vai quante ne sprec... no vai che ne sprecca un botto boom 900 e questa ti togli mi sa allora continua ah sei proprio fissato vegeta sai che ne stai sprecando un po troppo di energia perchè qui arriva kb che ti spacca boom e lui già si vede sotto la vita blu eh eh ci vado anch'io ora la differenza sta tutta qui che tu non hai abbastanza energia io si vediamo no vai vai no l'ho sprecata l'ho sprecata miseramente ma muoio ecco ma devo riniziare da zero dai 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 trasforma no non devo pestarlo anche se vorrei ma basta vegeta stancato però eh non è che puoi andare tutto il tempo tutto il tempo alla massima potenza lì non fa nient'altro prende massima potenza io torno al 4 via vabbè allora vai avanti vabbè è divertente no? no no stimolante devo dire guarda veramente guarda come ti diverti tu vegeta non si diverte nessuno guarda qui che adesso appare la linea verde mi sa eh vediamo eccola lì ragazzi linea verde vediamo se va ancora e gli va ancora più indietro lui oh ti puoi anche aumentare eh capito oh ti puoi trasformare se vuoi vegeta no mi è venuto dietro mi è venuto dietro però vinco io perché ho sempre più energia di te vegeta mi dispiace dirtelo ma se sei un pollastro non è colpa mia adesso oh veramente cioè ti giuro non ti sopporto più vegeta tanto io no oh per fortuna poi non hai mosse non conosci mosse non lo so non te le hanno insegnate da piccolo vediamo perché non ho fatto oh e adesso o ti tolgo una marea no dai però poteva spararlo via eh è rosso energia rossa poteva andar via godo vai caricati caricati veloce oh guardate là che viene giù la cascata bello quella bella via trasformazione Goku Super Saiyan 4 eccolo qua va lì dietro va lì dietro e 215 su 215 vegeta è arrivata la vita arancione eh addirittura più indietro oh eh basta no perché mi fai questo perché mi fai questo perché mi fai questo vai oh no dovevo fare vai si no eh no però non dovevo pestarlo così vabbè aspetta aspetta per il colpo finale voglio essere Super Saiyan 4 se ce la faccio vai si vai perfetto dai 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 che lo spariamo all'aldilà guardatevela 3 2 1 eccolo ciao ciao vegeta KO e KB vince la prima sfida delle due la seconda mi sembra che sia alquanto impossibile però adesso andiamo a vedere ecco infatti con Goku ho vinto facile dai vediamo quanti punti chi appiamo 80.000 83.300 oh quasi salgo vabbè salva attento cos'è aumenta il premium questo potrebbe essere interessante vabbè mentre con la seconda sfida adesso andiamo a vedere chi è è un bel bambino paciarotto simpaticissimo che è anche nostro figlio in questo caso quindi dov'è tac 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 eccolo qua gothen c'è scritto rottura no non ce l'hai tipo un kamehameha super sejian in carica mettiamo fuori il senzu che non fa mai male dato che devo fare una sfida un po' difficile contro un cooler più 30 quindi va in fondo il primo cooler che becco lui frieza cooler eccolo qua e vabbè 23 livelli sopra io questo c'è il massimo che posso fare è questo quindi ancora qualcuno ha fatto irruzione e no niente ragazzi allora ah no quella di prima con Goku sì perché comunque era contro il più forte non era specificato quindi va bene mentre questa qui con cooler la rimetto cioè la lascio in lista e la faccio la volta dopo perché ovviamente se fanno irruzione non posso diciamo tenerla buona ah no ma c'è scritto gothen no c'è scritto gothen non gothen super sejian eh allora sono un defi nel senso che sono proprio un defi perché potevo evitare di prendere gothen super sejian oh puoi anche fargliela ok perfetto eh non so bene come potrebbe andare a finire ok bene no mi è andato dietro vai gothen pestalo pestalo a pugni vai oh che è sta roba oh t'ho detto no no eh lo sapevo lo sapevo che sarebbe finita così mi piace poco vediamo 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 vince lui vediamo 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 godo si 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 pareggio subito è simpatico non è per essere però hai tipo un po' scassato vai sfrutta il momento kb non gli tolgo praticamente niente anche perchè lui ha ancora 4000 di vita però si ma da di quei pugni questo ragazzi spacca no via da qui via da qui via da qui sparisci si vai e altre 400 53 stavolta no mi ha dato il pugno oh vai kb dai dai che lo recuperiamo c'ha 3000 di vita più o meno lui un po' meno però no no si devo riuscire a sparare questo questo subito no 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 perchè si è trasformato mannaggia i fiori no eh no non ti dovevi trasformare io volevo che facessi la mossa non la trasformazione vabbè adesso appena finisce l'energia ah no non finisce neanche non ci si può neanche nemmeno detrasformare eh eh questo è un problema dovrei posso eh no faccio così vado alla massima potenza e consumo di nuovo eh vabbè no volevo fare più pugni vabbè e consumo tutta l'energia dai vabbè pestarlo lo pesto comunque perché sennò vediamo tutta l'energia eccola qua così siamo a posto via 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 oh 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 tutti questi pugnazzi piace un po' eccolo bam 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 come prima bam e lui rimane con 800 di vita io ho il doppio praticamente vai alla massima come prima simpatico dai vai questo potevo anche non farlo questo potevo anche non farmelo dare eccolo però non è tanta di energia devo star bello lontano via c'ho ancora no se mi spara via adesso è la fine ve lo dico vai ripigliati il vantaggio KB no 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 è vero non ho provato a fargli le onde da lontano magari le piglia magari no oh puoi anche provare godo sì e vince anche la seconda sfida KB e vai va bene ragazzi continuate a farmele le richieste e basta per il resto come di consueto vi ringrazio e ci vediamo con i prossimi video qui salgo anche di livelli tra livelli bella